Per quanto riguarda la partita della Roma, il primo tempo dominante la Juventus, il secondo un pochino noi, devo essere sincera, non mi è comunque piaciuta la partita, anche se abbiamo vinto, contenta dei tre punti, però la stagione è compromessa da parecchio tempo. Però oggi voglio fare una piccola considerazione sull'annuncio di De Rossi, io credo che il male che ha fatto questa società alla Roma non l'ha fatta nessuna, ma neanche la più scarsa società che aveva in mano la gestione della S Roma è stata così. Io non ho parole, proprio sono sconvolta. De Rossi ha 36 anni, poteva fare ancora una stagione sicuramente, un preparatore atletico incapace, perché sui infortuni questo campionato sono stati innumerevoli, però senza parole e alla luce di questo io non so che accadrà al prossimo campionato, sarà peggio di questo? Che sta per finire? Non lo so, sono scandalizzata, sono amareggiata, sono delusa, sono schifata, non so più che dire, non ho più parole, ma proprio no, no. Grazie per la visione!